Ho messo tre mesi a convincere Bertolaso che si sente lontanissimo dalla politica, che non vuole fare dibattiti politici, dialettica politica eccetera, è un uomo del fare, a convincerlo, a lasciare per ora da parte quel progetto e venire ad occuparsi della sua città della nostra capacità, ha immediatamente trovato una formula che così dobbiamo e sicuramente condividere e condividiamo, che è quella della tolleranza zero verso il degrado, tolleranza zero verso chi non rispetta le regole. In poco tempo è stato capace di mettere giù un programma che in parte è riportato in questa scheda, sarà capace di mettere su una squadra come giunta non di politici, non dei cosiddetti tecnici grazie, ne abbiamo avuti abbastanza con Monti e con gli altri, di persone prese dalla vita vera che abbiano dimostrato nelle cose che hanno fatto di saperci fare e che quindi meritino l'attenzione, l'apprezzamento da parte di tutti.